Mi presento, sono Carlo Guzzi, uno scultore della Brianza, di Paina per l'esattezza. Ecco qui l'opera. Si parte da qui, l'uomo, una presenza rossa. Il titolo dell'opera e dell'installazione è Inascolto. Quindi restare in ascolto ma anche non ascoltare. L'idea è che da qui partono parole, messaggi, intenzioni che poi si spostano verso l'osservatore, il pubblico. Noi dall'altra parte è un esercito di uomini, sono 100 uomini in ferro cotto, che lavoro io a mano, vuoti. Quindi da una parte è il pieno e da una parte abbiamo il vuoto. In mezzo cosa ci sta? Ci sta la vita, probabilmente. Ci stanno le parole che sono state dette e ora cadute a terra ne raccolgo alcune parole che diventano lettere. lasciate qui per il pubblico, quindi per chi vorrà venire e costruire la propria frase, la propria parola o lasciarle così come lettere. Quindi un'opera che si completa con la gente, con le persone che vengono e con questo contesto perché l'installazione nasce proprio per il Festival della Literatura e basta.